Se i bambini mi salutano, ciao bambini! Bambini, ciao! Ma non mi so, ok! Bambini, ciao! Salutatevi bambini, ciao! Vi aspettiamo con amore! E che bellissimo, dai ragazzi, hai da ballare? Ragazzi, miei, anche qui, alla sera della trepietura, ci puoi ballare. Mi informano che questa qui è la settima, giusto, la settima, la settima, la settima, la settima volta che ci è stata fatta la festa della trepietura. La prima nel 2014, giusto? E poi si è continuata, però negli anni del Covid, no, non l'abbiamo fatta. Prima del Covid, l'abbiamo fatta prima del Covid. E sui bambini, salutiamoli, salutiamo i bambini. Vi salutiamo i bambini, mamma e papà, gie. Ci salutiamo i bambini, lo faccio il saluto ai bambini. Lo faccio il saluto ai bambini, mamma, papà, gie, cucino. Ciao bambini, come va, come va? Ciao! Ciao, va bene! Vi aspetto! Allora, quando arrivano i bambini, facciamo anche un giro con i trattori, eh? Vi avvicinate al Gazzempo Rosso, aspettate che l'autista vi prende ogni bambino e vi porta in giro, eh? Parcheggia, il trattore parcheggia dei bambini al Gazzempo Rosso. 안돼, vecchio! Mia! 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 Nowa, pensare con i treni, non mi presenza diку aлять il myCU house 규 kiddo che è venuta sin nero quasi. Mia! Mia, mamma! Mia! Ecco i nostri trattori, guardate questo trattore cosa sta combinando ragazzi, come ho detto io, sono di una certa, eh, guardate un attimino, guardate di arte tecnologico moderni, guardate come lavora però questo trattore, guardate qui, guardate, è un mostro della terra, ecco, guardate che lavora, guardate, 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 sono dei trattori bellissimi, con tecnologie delle poterne, comedi, anzi, poi ci hanno pure l'aria condizionata, hanno anche l'aria condizionata ragazzi, facciamo un applauso all'autista del trattore perché è bravissimo, ecco lì, bambini venite, allora, allora bambini, ecco la Nicola che è arrivato, il mostro Nicola con i nostri bambini è arrivato, vediamo cosa dicono, bambini venite vicino a me, fate una foto, una foto, ricordo, fate una foto, ricordo, ok, bambini venite vicino a me, venite qua, dove sono io, dove c'è, è in diversità, sai, allora venite, 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 vedi qua, emozione, emozione, ti sei emozionato, ti sei divertita? No. 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 Mi piace. Eaudiamo!